Beautiful anticipazioni americane, Steffi e Thomas alleati per distruggere Brooke e Hope. Steffi potrebbe presto vendicarsi di Brooke e Hope e Thomas potrebbe aiutarla. Steffi potrebbe proporre a Thomas di creare una collezione insieme, dimostrando a Hope e Brooke di poter dare anche lei un contributo concreto all'azienda. Thomas sarebbe l'arma vincente per Steffi, il talento del Forrester e la caparbietà di sua sorella potrebbero essere vincenti e Hope e Brooke sarebbero destinati a farsi da parte. Steffi e Thomas alleati potrebbero pure chiedere aiuto a Zende in grande crisi con RJ a causa di Luna.